Buongiorno, il mio nome è Rosita Paradiso, sono nata, vivo e lavoro a Cosenza. Sono entrata nel mondo della scuola nel lontano 1991, in qualità di docente di scuola primaria, ho proseguito il mio percorso nella scuola secondaria di secondo grado e da ben 13 anni sono dirigente scolastico. Attualmente dirigo un istituto di istruzione superiore della città al cui interno esistono interessanti indirizzi di studio, il tecnico economico, costruzione, ambienti e territorio, l'ex geometra e il liceo scientifico e scienze applicate. La calabria che vorrei? Questa è la domanda che mi è stata posta. Essendo una donna di scuola naturalmente vorrei una calabria di qualità. Vorrei una calabria dove il merito e le competenze che i ragazzi acquisiscono a scuola trovino realmente spazio in una terra meravigliosa, una terra piena di risorse, una terra che dovrebbe offrire un futuro roseo a queste belle intelligenze che si stanno maturando e stanno crescendo nelle nostre scuole. Purtroppo la scuola ultimamente non è il primo fra i problemi e gli interessi della politica locale e nazionale e quindi quello che io mi auguro è che nel prossimo futuro la scuola ritorni ad essere al centro degli interessi perché è fondamentale fare una scuola di qualità, è fondamentale arricchire le scuole di laboratori, è fondamentale implementare le competenze non soltanto tecniche e tecnologiche ma gli interessi propri dei ragazzi perché ognuno possa affermarsi e possa dare il proprio contributo per la crescita di questa meravigliosa terra.